Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video decennata di oggi sarà il gelato ai mertilli. Per preparare il gelato ai mertilli occorrono 300 grammi di mertilli, 100 ml di panna, 400 ml di latte, 4 cucchiai di zucchero. Per prima cosa mettiamo i mertilli nel recipiente. Dopo averli ben lavati. E aggiungiamo il latte. E mescoliamo. A questo punto aggiungiamo la panna. A questo punto aggiungiamo la panna e il zucchero. E mescoliamo. Ecco qua che il nostro gelato è pronto. Adesso lo andremo a mettere in gelatiera. Mettiamo in gelatiera. Il tempo di 15-20 minuti sarà pronto. Ed ecco qua che dopo 20 minuti il nostro gelato è pronto. Ed ecco qua che il nostro gelato al mertillo è pronto. È un gelato davvero buono, molto gustoso e facile da preparare. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie.